carissimi pace pace del signore buona giornata dio benedica la vostra vita spero che stiate tutti quanti bene oggi che è 12 luglio e sono le 7 del mattino e voglio condividere con voi un verso noto e anche bello che si trova nel libro dei proverbi al capitolo 23 mi riferisco al verso 26 dove l'autore ispirato dallo spirito santo riporta un po il pensiero l'invito che il signore rivolge ad ogni uomo ad ogni credente e cioè figlio mio dammi il tuo cuore e gli occhi tuoi prendono piacere nelle mie vie quello che il signore ci vuole dire potrebbe essere anche in qualche modo espresso con quest'altra parola e cioè figlio mio dammi il tuo cuore la tua attenzione il tuo interesse il tuo zelo la tua intelligenza e credo che davanti a una richiesta di questo tipo ci viene subito da pensare che magari il signore pretenda troppo e ci chieda il meglio di quello che abbiamo ma dobbiamo considerare che dio non chiede mai troppo anche perché gli ha dato molto più di quello che chiede ci ha dato suo figlio il suo onigenito e la sua richiesta è finalizzata non a sfruttare noi ma semplicemente a benedire la nostra vita e a servire a servirsi di ognuno di noi per il progresso del suo regno e quindi a renderci ambasciatori del suo evangelo ad essere ministri nella sua chiesa ad essere servitori utili per il progresso del suo regno e quindi è qualcosa che ci nobilita qualcosa che ci onora qualcosa dinanzi alla quale ci dovremmo sentire non sfruttati ma anzi onorati e onorati come si suol dire all'ennesima potenza egli ha quindi per noi un desiderio un desiderio di dare valore alla nostra vita il servizio che noi rendiamo a dio secondo la sua volontà è qualcosa che ci dà una grande dignità noi che siamo dei peccatori noi che siamo insufficienti e inadatti a fare qualunque cosa gli ci dovesse chiedere perché troppo alto è il compito è troppo alto il valore dignitario di colui che ci chiama al servizio proprio noi siamo l'oggetto della sua chiamata e siamo l'oggetto delle sue attenzioni e allora dio sia lodato se egli ci invita a dargli il suo cuore dio se lo ha dato perché lui lo fa per amore un amore grande immenso smisurato che ha verso ciascuno di noi e questo amore lo dobbiamo ricambiare con un amore altrettanto intenso e con una disponibilità totale a seguire la sua chiamata e a servirlo a servirlo non in modo fiacco ma con grande gioia gioia che sgorga che nasce dal fatto che ci rendiamo conto del privilegio che noi abbiamo quando il signore ci chiama a dargli la nostra vita quindi via ogni tiepidezza anche perché la tiepidezza non è un sentimento che dio gradisce credo che tutti ricordiamo le terribili parole che il signore pronuncia alla chiesa di la odicea perché sei tiepido io ti vomiterò dalla mia bocca il nostro servizio deve essere dicevamo svolto in modo entusiasta anche perché c'è una maledizione per coloro che servono il signore in modo fiacco e chi non ci crede vada a leggere geremia 48 10 e allora dio ci aiuti ci aiuti a dare il cuore al signore ci aiuti a servirlo in modo degno ci aiuti a farlo con tutto l'entusiasmo possibile ci aiuti anche nella preghiera ad avere questo tipo di attitudine perché non ci dobbiamo mai dimenticare che noi troviamo il signore quando lo cerchiamo se come dice geremia o meglio come si dice dio per bocca di geremia se noi lo cerchiamo con tutto il nostro cuore il nostro signore quindi possiamo affermare che non ama le mezze misure proprio perché come abbiamo detto all'inizio egli ha dato tutto per noi il meglio per noi egli desidera che noi siamo pronti a dare a nostra volta il nostro cuore e tutto per intero senza trattenere qualcosa per noi egli non è stato avaro con noi e quindi noi non possiamo essere avari con lui e l'amore ci dobbiamo ricordare sempre che si può ricambiare soltanto con amore così come l'interesse che egli ha mostrato per noi lo possiamo contraccambiare solo con un interesse vero sincero per lui e per il suo regno ora a noi delle volte sembra che possiamo ricambiare l'amore che dio ci ha mostrato con una semplice simpatia e l'interesse che egli ha manifestato verso di noi con una buona dose di stima ma ci dobbiamo sempre ricordare che dio non ha bisogno delle briciole delle lemosina il signore ha sempre chiesto il meglio le primizie e dio ci aiuti ad offrire le primizie al signore ecco perché quando egli dice figlio mio dammi il tuo cuore egli sta facendo l'unica richiesta ammissibile possibile perché se egli possiede il nostro cuore allora egli possiederà anche i nostri sentimenti e avrà la possibilità di poter chiederci di offrirgli ciò che veramente lui desidera da ognuno di noi e allora fratelli sorelle ascoltiamo questa mattina la chiamata che ci viene rivolta da parte del signore e accettiamola nel nostro cuore donando tutto il nostro cuore perché la cosa migliore che possiamo fare per la nostra vita è quello di arrenderci totalmente nelle mani del signore permettendo a lui di guidare tutto il nostro essere i nostri pensieri e quindi le nostre azioni il nostro parlare il nostro agire il nostro reagire permettiamo a lui di poter disporre del tempo che gli stesso ci dona affinché lo possiamo spendere nel modo migliore e più proficuo fratello sorella coraggio e tempo di dare tutto il tuo cuore al signore perché egli vuole fare cose meravigliose attraverso di te e tu non puoi e non devi sarebbe un delitto privarti del grande onore di poter essere usato da dio per la salvezza delle anime per l'edificazione della sua chiesa la pace e la grazia e l'amore di dio ci accompagnano ancora oggi dio ci benedica tutti insieme grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti